pace bene a tutti nella divina volontà ecco cari figli e figli di dio oggi lo spirito santo mi ha messo in cuore proprio del desiderio di fare questa catechesi e non dico piccola perché diciamo poi magari dura un po di più del solito e però veramente è qualcosa che sarà veramente benedizione per le anime guarigione per i corpi grazie a gesù la consacriamo tutto alla madonna proprio perché questa dichiarazione che ho fatto diventi realtà ave o maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte amen allora in questo momento mi rivolgo proprio immagino di parlare per la prima volta con una persona che si trova in una situazione di dolore e vuole guarire può essere una situazione piccola di dolore può essere media può essere grande può essere da quello che sembra quasi umanamente parlando disperata di comanamente parlando perché per gesù non ci sono situazioni disperate gesù con gesù si può superare tutto però ecco immagino di parlare proprio una persona che sta nel dolore la se questa persona adesso chiedesse come guarire la risposta che il signore desidera e mi mette in cuore e proprio per per rispondere a questo fratello a questa sorella è questa il punto di partenza di ogni guarigione è guarire l'ira santa il legarda dice che tutte le infermità sono legate all'ira alla tristezza e alla melanconia se una persona nella sua vita non sa gestire la sua ira può ammalarsi allora domanda fondamentale l'ira è una cosa buona o cattiva prima risposta fondamentale l'ira è un dono che dio ha fatto all'essere umano è una forza dell'anima che dio ha messo nel cuore dell'uomo nella sua anima quindi non è una cosa cattiva l'ira l'ira è un dono è una forza quando si dice amare dio con tutte le forze fra queste forze c'è anche l'ira però avete capito bene l'ira si può usare bene quindi per amare dio e per fare quello che dice dio e si può usare male e allora diventa ira che ti può far soffrire anche ammalare allora i padri della chiesa evaglio pontico dicono che l'ira si usa come dono e secondo la volontà di dio quando l'ira si usa contro il peccato e contro il male e contro satana quindi contro il peccato e contro satana l'ira dio ce l'ha data per proteggerci e per combattere il peccato e satana e tutto quello che viene da lui questa è l'ira usata in maniera virtuosa che fa bene che fa pure guarire se la usi bene perché voi sapete che le forze se le usi male possono diventare come quando il sistema immunitario attacca il corpo stesso se il sistema immunitario funziona bene protegge il corpo ma se funziona male lo attacca così è l'ira se funziona bene protegge la persona se funziona male in qualche modo si rivolge verso la persona stessa voi sapete che in psicologia spesso dicono che la depressione a volte è un'ira congelata cioè un'ira che si è rivolta non verso satana ma verso se stessi cioè uno s'arrabbiato con se stesso e i padri della chiesa cardina speed il che dice nel suo libro e l'arte di purificare il cuore dice che la tristezza per i padri è una forma di rabbia la tristezza è una forma di rabbia è una forma di rabbia che tu c'hai con la vita e allora diventi triste perché sei arrabbiato con la vita quindi in qualche modo è come se avessi la tendenza che non te va più di vive e quindi la tristezza è come una forma quasi quasi di protesta che tu c'hai verso la vita allora questo naturalmente a livello generale poi ogni situazione ogni persona bisogna fare sempre discernimento perché a volte è una cosa può essere dovuta pure a motivi organici e quindi magari ci con una cura cioè nel senso questo è un principio generale poi ogni persona va sempre ascoltata e fatto discernimento in maniera personale allora l'ira buona è quella che ti spinge a combattere satana e il peccato quindi la forza che dio ti ha dato l'ira tu la mandi per combattere satana e il peccato quando invece la usi male cioè la usi secondo satana la usi come vorrebbe satana tu l'ira la mandi o contro dio o contro gli esseri umani o contro te stesso quindi quando l'ira la usi secondo dio va contro satana nel peccato quando la usi invece male che disobbedisci a dio l'ira satana te te inganna e te la fa pia o con dio o con te stesso con gli esseri umani allora una persona che vuole guarire per tornare al discorso iniziale deve decidere di guarire dall'ira dall'uso che fa della sua ira più tu imparerai a usare l'ira per combattere satana il peccato e non la manderai verso te stesso verso di e verso gli altri più guarirai allora se adesso una persona quella qui punto sto parlando no come ho detto che sto immaginando mi dicesse va bene don roberto ma adesso io mi sono accorto che in effetti mi ero arrabbiata con me stessa oppure mi ero arrabbiata con mi madre oppure me l'ero presa perché quel ragazzo ma prima di sposarmi mi ha lasciato e per me mi ha rovinato la vita adesso io non lo posso perdonare e rimarrò in ira con lui per sempre perché mi ha rovinato la vita no te da una bella notizia nessuno te può rovinare la vita l'unica cosa che te rovina la vita è il peccato l'unica dannazione che esiste la rovina è perdere gesù andare all'inferno quella è la rovina è rovina terra eterna e resto con gesù se può recuperare tutto dio le suscita pure i morti quindi come ha detto gesù a santa faustina se tu vuoi combattere ti assicuro che la vittoria sarà sempre della tua parte non avere paura né delle tentazioni nelle prove se tu vuoi combattere ti assicuro che la vittoria sarà sempre dalla tua parte se tu vuoi combattere però se tu vuoi usare bene l'ira se l'ira la vuoi usare combatte satana il peccato stai tranquillo che guarisci ma se tu l'ira puoi continuare a usarla contro te stesso contro quella persona contro dio più la usi purtroppo più rischi da malatte ma io non parlo di malattie solo fisiche parlo di malattie dell'anima anche che so peggio di quelle fisiche a volte perché vuoi continuare tra virgolette quasi a sembra che vuoi fare veramente vuoi fare dato che non riesci a risolvere stile alla fine della rivolge verso te stesso te stessa e magari devi agastrite devi erba al stomaco te senti male e così via allora quindi questa è la risposta alla prima domanda che ho fatto prima no proprio cosa fare proprio con l'ira no come guarire quindi l'ira è buona quando si usa in questo modo quindi la prima la prima cosa io devo desiderare di combattere ma devo capire veramente che sono i miei nemici i miei nemici sono satana il peccato invece satana mi fa credere che i miei nemici sono dio l'altri essere umani o me stesso allora secondo secondo passaggio se una persona si accorgesse che l'ha fatta grossa nel senso che in realtà invece satana ingannata e se l'è presa o con dio con se stessa o con l'altri come se può guarire allora io vi do una soluzione molto semplice ricordatevi che l'ira fa ammalare ma il perdono fa guarire dio il dolce gesù ci ha dato già tutti i rimedi non a caso gesù sulla croce dopo tutto quello che gli hanno fatto ha detto padre perdona loro perché perché gesù voleva essere sano infatti è risorto gesù ama la vita e vuole essere sano vuole stare bene operare il bene vuole che anche noi stiamo bene operiamo bene quindi noi possiamo con lui col suo aiuto perdonare noi stessi perdonare gli altri e come ho spiegato l'altra volta nella catechesi a volte c'è bisogno di perdonare anche dio ma qui sottolineo ancora non perché dio se sbaglia che questo se no sarebbe una bestemmia no perché noi sappiamo che il dolore si scioglie col perdono allora per esempio io in un certo periodo della mia vita mi sono sentito abbandonato da dio e non per accusare dio ma per sciogliere il mio dolore posso dire signore io mi sono sentito abbandonato in questo periodo da te allora e adesso per sciogliere questo dolore questa rabbia verso di te io ti perdono signore e dichiaro che tu invece sei innocente che tu non c'entravi niente e che purtroppo satana mi ha spinto contro di te però io ti perdono affinché si sciolga il mio dolore si sciolga la mia rabbia e torniamo in piena riconciliazione poi se serve si chiede anche perdono a dio perché a volte noi ci siamo sentiti abbandonati ma tante altre volte io l'abbiamo magari offeso e quindi gli dobbiamo chiedere perdono magari se serve e ci sono peccati gravi bisogna andare a confessare no così il perdono guarisce il perdono si può avere in tre modi la confessione è il modo ordinario della chiesa per i peccati gradi soprattutto per i peccati degnali e santo maso stesso dice che la comunione stessa rimette i peccati degnali e poi qualunque gesto di elemosina preghiera atto di carità servizio dei poveri rimettono anche i peccati degnali e poi io vi do perdonare gli altri vi do un esempio se voi andate sul canale c'è la catechesi con gesù sciogli ogni male e io la faccio proprio la preghiera di perdono fin dal concepimento che aiuterà una persona che per la prima volta prega a perdonare se stessa gli altri chiunque fin dal concepimento quindi come guarire inizia a guarire la tua ira si parte da lì tu puoi essere un malato fisico puoi essere malato psichico puoi essere malato uno spirito può essere malato come te pare tra virgolette ma quello è secondo me è l'approccio alla guarigione tra i più efficaci che esistono partire dal rimettere a posto la forza dell'ira nella tua anima come l'hai usata stira nella tua vita se te sei accorto che l'hai stata male non ti preoccupa che dio è pronto a perdonarti ad aiutarti a perdonare anche te stesso questo è importantissimo perdonarsi tra sposi per esempio perché il problema qual è il problema è il dolore quello che un'altra persona ha fatto o volontariamente o involontariamente ci può aver causato dolore e se quel dolore che si è messo sul mio cuore io non lo sciolgo quel dolore se io non lo sciolgo può diventare ira può diventare paura può diventare panico può diventare ansia può diventare il dolore si trasforma in emozione negativa nel cuore se invece lo sciogli col perdono qualcuno si trasforma in pace in sicurezza in fiducia in dio e nella vita che dio ti ha dato e così via ma tutto come l'ira si può dire che in qualche modo è la più simile alla superbia no la superbia è la causa di tutti gli altri vizi no e l'ira è quella che in qualche modo gli esomiglia di più come guarire dall'ira in qualche modo è guarire da tutti gli altri vizi e malattie così invece alimentare l'ira in maniera sbagliata significa alimentare tutti i tipi di malattie anche nelle relazioni con gli altri con se stessi con dio col proprio corpo io una volta ho fatto vi ricordate la preghiera per perdonare frate il corpo per esempio una persona malata che dal suo corpo ha avuto tanti problemi a un certo punto non è pazzia quella di fermarsi e dire frate il corpo nel nome di gesù sotto la protezione del sangue di cristo frate il corpo io ti perdono per tutto il dolore che mi hai procurato anche involontariamente perché il corpo non è che te lo fa apposta ma a volte che ne so il corpo ti impedisce di camminare come vorresti il corpo ti impedisce di avere magari che ne so hai perso i capelli e per questo motivo te odi perché tu proprio non sopporti di una cosa del genere allora perdonarsi spesso porta una guarigione vi ricordate io la testimonianza che ho preso dal dottor kennel mccall e quando lo chiamarono in questa clinica psichiatrica c'era questa donna che era un vegetale e purtroppo era un vegetale per colpa dei medici che avevano fatto un errore tremendo e questa era rimasta un vegetale quando il dottor kennel mccall l'ha vista ha detto qui solo una cosa si può fare a livello medico non si può fare più niente solo una cosa si può fare fare una preghiera per perdonare i medici che l'hanno ridotta così beh lui ha testimonato ve lo ricordate l'ho detto già in catechesi loro hanno fatto la preghiera di perdono per perdonare i medici per tutto il dolore che per errore però avevano procurato a questa credito avevano resa un vegetale beh la mattina dopo questa persona si è svegliata gli sono cominciate a ricresci i capelli c'è stato un miracolo da quello che racconta il dottor kennel collo l'ira usata male ti fa ammalare il perdono esercitato nel nome di gesù cristo ti fa guarire perché il perdono è carità e amore è amore di dio e l'amore di dio ti guarisce c'era un libro una volta che si intitolava l'amore di dio guarisce l'amore umano ferisce ecco e mi colpi molto e questo titolo allora ecco quindi questo è il principio fondamentale il perdone la guarigione adesso concretamente e poi finisco allora come comportarsi perché finché devi perdonare dio tra virgolette ok finché devi perdonare te stesso che ma a volte con gli altri è giusto fare questo atto di perdono però a volte può succedere una cosa può succedere praticamente che tu perdoni le persone in questo modo guarisci diventi proprio come dio immagini di dio perfettamente guarita no ma queste persone non si fermano nel farti del male allora come fare perché a volte nella vita succedono delle situazioni che non sono così facili da gestire no allora di solito quando si comincia a fare la preghiera di perdono soprattutto quella che ho detto con gesù scioglie ogni male che trovate sul canale il mio cuore immacolato trionfa e proprio nel basta che cercate nei video e la trovate quella già quando si comincia a perdonare spesso succede che perdonando si chiudono le porte sataniche fra poi e quelle persone anche quelle persone cominciano a cambiare il perdono fa veramente nel nome di gesù dio attraverso il perdono opera miracoli veramente spesso ci sono dei cambiamenti enormi anche nelle persone che apparentemente erano irremovibili ma se dopo aver pregato aver perdonato alla fine non cambia nulla quelle persone continuano che ne so a farvi malefici e a trattarvi male quando ve vedono e a farla male di voi insomma le continuano in qualche modo a perseguitare o direttamente o indirettamente ci sono due cose molto importanti che si possono fare allora e fino a quando queste persone si possono frequentare senza averne danno uno col perdono con la preghiera e c'è la protezione di dio e quindi continua per amore di dio a sopportare le persone moleste che è una delle opere di misericordia no e quindi con la pazienza con la preghiera col perdono risolve tutto e guarisce anche da quelle ferite queste persone spesso ti possono fare ma quando il pericolo di queste persone è più serio perché veramente sono persone che ti possono fare del male non solo perché magari in certi casi ti possono proprio portare sulla cattiva strada ti possono per assurdo picchiare cioè mettere in pericolo proprio a livello di picchiarti o che possono fare proprio dei malefici che tu veramente hai riscontro che purtroppo c'è qualcosa di serio che non va non perché te lo immagini in questi casi e bisogna non perdonare fare tutto quello che ho detto ma naturalmente e quando non è possibile proprio frequentare queste persone o frequentarli in maniera molto diciamo in maniera molto frequente e bisogna da lontano tenere sempre le porte chiuse attraverso il perdono perché l'ira apre le porte a satana anche se state lontani ma se tu perdoni quella persona la verrà a distanza tanto quanto serve per non farti fare del male ma se tu i preghi per lei e continua a perdonare anche a distanza la porta sarà sempre chiusa dal perdono dell'amore di dì e quindi tu sarai sempre in un bunker sarai sempre difesa da qualunque male anche fatto a distanza ecco perché nella rivelazione dell'amore divino che vi ho parlato di maria graff il signore chiede di pregare il rosario per la conversione dei peccatori e dei nemici della santa chiesa allora voi dovete sapere una cosa le porte sataniche fra voi e le persone che vi possono perseguitare o fare del male e si chiudono col perdono e pregando per la loro conversione quando si perdona e si prega per loro le porte fra voi vengono blindate si chiudono perché l'amore di dio il sangue di cristo scende come sulle case degli ebrei si mette sulla vostra casa e vi protegge poi in certi casi anche gesù dice se vi perseguitano in una città andate in un'altra ci sono delle situazioni purtroppo che le persone in qualche modo bisogna amarle in cristo ma a distanza non si può avere quella vicinanza che magari si vorrebbe perché sono veramente purtroppo pericolose e allora in quel caso bisogna amarle a distanza pregando per loro e benedicendole anche da lontano ma in maniera tale sempre da non mantenere l'ira e il rancore nel cuore in questo modo ci si blinda contro tutti i mali gesù a un certo punto dirà se vi perseguitano in un luogo andate in un altro in una città andate in un'altra perché ci sono delle situazioni che purtroppo l'unico modo per risolvere è allontanarsi se tu c'hai una nonna che fa maga per esempio e quella tu sai che ogni volta che ci vai ti fa una fattura ti fa sentire male e padre amor ti dice che le persone quando tu sai che una persona con certezza pratica magia e non è pentita è una persona che non bisogna frequentare si prega si si ama in cristo da lontano si prega per lei ma non bisogna frequentarla perché è una persona pericolosa è una persona che ha una mentalità magica quindi che proprio per lei è normale fate qualcosa di brutto naturalmente noi non dobbiamo avere paura di nessuno perché gesù dice berrete i veleni non vi faranno nessun danno la traduzione dice proprio berrete berrete anche il veleno cioè cose velenose non vi faranno alcun danno però non è che uno dei cose se va a cercare uno deve sempre cercare di usare la prudenza e praticamente per non cadere diciamo in situazioni e sgradevoli quando voi andate a mangiare da qualche persona di cui non avete certezza però avete qualche timore prima di mangiare prendetevi un cucchiaino di ogni esorcizzato a protezione ve lo proprio bevete un cucchiaino e magari recitate il padre nostro l'avemeria al padre chiedete proprio la protezione del sangue di cristo su tutto il pranzo tutta la cena e poi dopo quando tornate a casa magari ve ne prendete un altro mezzo cucchiaino lo potete fare con l'acqua esorcizzata se non lo fate con l'olio no però questo è importante noi dobbiamo sapere che abbiamo tutti i mezzi per essere protetti e per vincere tutti i mali però ricordatevi sempre il sale esorcizzato è importante l'olio esorcizzato è importante l'acqua esorcizzata è importante tutto quello che la chiesa ci dona per essere liberati questo intendo è importante ma non c'è cosa più liberante del sapere usare bene l'ira perché l'ira usata bene guarisce il cuore e gesù dice non c'è niente dall'esterno che può contaminarci se non entra nel cuore quindi una persona viene contaminata veramente dal male quando il male non è semplicemente una cosa malificata che se magna oppure che ne so qualunque cosa che può ingerire ma quando quel male poi diventa nel suo cuore ira allora lì veramente entrato nel tuo cuore allora questo è molto importante quindi come guarire prima cosa impara a usare bene l'ira che è un dono di dio una forza che dio ha dato alla tua anima ma l'ha data per fare il bene e per vincere i mali usa bene l'ira amando dio te stesso il prossimo e invece arrabbiandoti e usando l'ira contro satana e il peccato la chiesa dice odiate il peccato ma amate il peccatore no invece satana ti dice ama il peccato e odia il peccatore chi te fa del male così veramente satana fa fiorire poi in te il male fino in fondo quando tu cominci a usare male l'ira allora quindi i mezzi più potenti di guarigione dall'ira sono appunto chiedere perdono a dio attraverso in particolare la confessione ma anche quando non sanno peccati gravi imparare magari ogni sera a chiedere perdono a dio di tutti i peccati anche mediali che uno può aver fatto durante il giorno cioè non fare mai pace col peccato e quindi imparare fiduciosi nella misericordia di dio a chiedere perdono per essere proprio di gesù col sangue l'acqua del tuo costato lavami e liberami da tutto le cose che possa aver accumulato oggi poi naturalmente la confessione il sacramento della confessione poi è la preghiera di perdono io ho fatto l'esempio di una preghiera già scritta che può essere utile per tutti ma si può fare pure spontaneamente però se ne volete fa una già scritta e quella che trovate ho detto con gesù sciogli ogni male poi pregare per la conversione dei peccatori e dei nemici della santa chiesa e quindi per la conversione anche dei nostri possibili nemici e di chi ci fa del male satana si approfitta del dolore che trova in te se tu il dolore non lo sciogli rimarrà come un gancio nel tuo cuore qui satana si attacca per farti venire l'ira la paura il terrore il fatto che si ripetono quelle cose brutte la paura che muore quello lavoro e muore quell'altro perché lira è una forza che si deve scaricare in qualche modo o se scarica le paure o se scarica i risentimenti o se scarica le ansie o se scarica invece se tu la scarichi come si deve scaricare cioè col perdono il perdono ti porterà pace sicurezza sensazione di essere protetti perché il perdono è come il manto di gesù ti protegge è la corazza della giustizia chi perdona è giusto in questo senso no allora ecco quindi la confessione il saper chiedere perdono la preghiera di perdono con gesù sciogli ogni male il saper pregare per esempio rosario per la conversione dei peccatori e dei nemici della santa chiesa e poi un'altra cosa importantissima c'è una preghiera che insegna a don serafino falvo nel suo libro risveglio dei carismi dice quando tu sei consapevole che una persona anche a distanza ti fa del male fai una preghiera proprio nel nome di gesù per legare i demoni che agiscono attraverso questa persona così anche a distanza non ti potrà fare niente io vi consiglio una cosa semplice ogni tanto segnate una messa per legare tutti i demoni che ci vorrebbero fa del male anche attraverso le persone umane così vengono legati e il male non ve lo vogliono fa né da vicino né da lontano gesù dice in matteo 12 29 legate l'uomo forte gli strappete tutto il bottino legare i demoni è importante noi abbiamo nel nome di gesù possiamo legare i demoni delle persone che ci disturbano se voi fate una messa per legare i demoni se per assurdo c'è un mago che da lontano che fai ridi se voi legati i demoni che lui usa con cui fa combriccola lui avrà una difficoltà enorme a farvi ridi anzi probabilmente andranno tutti abortiti questi ridi perché legati i demoni quindi ecco questi sono è una piccola catechesi in effetti è stata piccola 31 minuti però è fondamentale guardate come guarire guarisci l'ira e questo permetterà lo spirito santo e di muoversi liberamente in te per guarire anche l'ultima cellula del tuo corpo allora finiamo proprio questa catechesimo vi do la benedizione poi vediamo come fare vorrei mettere la preghiera scritta e con gesù sciogli ogni male la vorrei mettere praticamente sicuramente la manderò tutte le chat così ognuno la può avere se la può stampare la può fare io vi consiglio di farla per nove giorni come non aveva la madonna e poi vediamo se è possibile metterla anche sul canale proprio in qualche modo e vediamo un po' e adesso vi do la santa benedizione il signore sia con voi per intercessione della mamma celeste nella divina volontà io faccio mio e faccio vostro il perdono che gesù ha dato sulla croce e nel nome di gesù attraverso questo perdono chiedo proprio che questo perdono si effonda su tutte le persone che faranno questa preghiera che accoglieranno proprio questo invito a perdonare e chiedo che il perdono sia usato proprio da gesù per guarire ogni ferita fino all'ultima cellula del nostro corpo perché possiamo stare bene operare sempre il bene nella divina volontà contro ogni altra volontà anche diabolica nel nome del padre del figlio e dello spirito santo pace e bene a tutti nella divina volontà